Parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese Dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare Dimmi che cosa devo fare No, questo no, non è l'interno No, non è l'interno Non è possibile pensare che sia più facile morire No, non è l'interno Ancora risolto E tu mi scorgi e non rimangano parole Non rimangano parole Non rimangano parole Grazie 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 Grazie